Vittorio Lapolla, 57 anni di Matera, sposato con due figlie, da pochi giorni è il nuovo prefetto di Pesore Orbino. Subentra a Carla Cincarilli che è stata capo della prefettura dal novembre del 2017 e che ha lasciato per raggiunti limiti di età. Dopo diversi incontri in questi due giorni con le cariche provinciali dell'apparato di sicurezza, primo cittadino di Pesore presidente della provincia per approfondire le problematiche del territorio, oggi in prefettura ha incontrato gli organi di stampa. Ascolto, confronto e dialogo con la realtà esterna e tutte le componenti della società civile, oltre che il confronto e la massima collaborazione con chi si occupa dell'ordine pubblico. Queste sono state le sue dichiarate linee di indirizzo per questo suo primo incarico da prefetto. Prefettura che vorrà operare in uno spirito di massima collaborazione con le amministrazioni locali, con tutte le altre istituzioni. In questo senso il ciclo di incontri che sto avendo, che ho iniziato ieri mattina e che proseguirà nei prossimi giorni, mi servirà anche a dare atto e senso a questo spirito di collaborazione che sto rappresentando a tutti i sindaci e alle altre istituzioni che sto incontrando. La Polla potrà contare per questo suo incarico su di una squadra rodata e di primissimo ordine, come lui stesso ha tenuto a precisare, a cominciare dal capo di gabinetto, Antonio Angeloni. Condivisione è un'altra parola chiave del suo mandato, applicabile non solo agli stretti collaboratori, ma come concetto di permeabilità con l'esterno. Proveniente da Matera, sua città natale, dove dal febbraio del 2018 ha in carico la gestione provvisoria del comune. La Polla precedentemente era a Roma, nel gabinetto del ministro dell'interno, dove era entrato nel 2011 con l'incarico di capo staff dell'ufficio asilo e immigrazione e dove ricopriva la carica di segretario del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica. La sua carriera però è partita da Varese nel 1991, ha al suo attivo diversi incarichi di gestioni commissariali anche in comuni con infiltrazioni mafiose come Trapani e Nicotera in provincia di Vibo Valentia. Nel 2007 viene promosso a viceprefetto. La fitta agenda di questi giorni di incontri continuerà anche con altre cariche istituzionali e con la conoscenza dei sindaci del territorio, tra cui Urbino e Fano.